Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo l'unboxing dell'uovo di pasqua della Marvel Mitico! Era da un po' che non facevamo l'unboxing sulle uova, vero? Esatto! Allora ragazzi Iniziamo ad aprire il nostro uovo oggi Uovo di... uovo della Marvel Più ci capiterà Ecco fatto Comunque si sta sciogliendo Vabbè Iniziamo a vedere cosa ci capita Ecco fatto Oh guardate un po' che abbiamo trovato Aspettate che lo monto un minuto Abbiamo trovato Spider-Man e Venom È simbionte Conosci Venom? Lo conoscono tutti Va bene Comunque Spider-Man è più figo Già Abbiamo trovato anche gli stickers su cui ha rissegnato Groot Vedova nera La faccia bianca di Spider-Man Spider-Man un po' lagliato Spider-Man in piedi Spider-Man a testa in giù E Spider-Man Spider-Man che lancia le ragnatelle È una scrittura della Marvel Abbiate visto Spider-Man Parfum Home? C'è misterio Ne sei sicuro? Certo che ne so sicuro Vedetelo È bellissimo Allora Bene ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo unboxing Ciao a tutti